Nella cornice della tenuta Pertinello qui a Civitella di Romagna si presenta oggi il Magnifico, il consorzio che raggruppa 18 produttori del territorio e che propone una carne nuova, una carne innovativa che in realtà è della tradizione romagnola toscana. La carne di bue romagnolo, quindi non più vitello ma un allevamento di carne adulta che sicuramente farà breccia nel territorio e non solo. Si è parlato poc'anzi di un'economia di mercato molto diversa da quello a cui si propone questo tipo di carne che è molto particolare ed è un mercato veramente di nicchia ma importante da inserire in un contesto più ampio perché deve essere promosso. Sì, diciamo che quando c'è un prodotto eccezionale bisogna avere una filiera che lo valorizzi, quindi che lo capisce. L'idea della giornata di oggi è l'idea di un animale anche con un invecchiamento eccezionale, quindi con una carne matura che difficilmente potrebbe essere inserito in una filiera di consumo normale, quindi nelle macellerie normali. Ma questo progetto ha alla base la volontà di creare una filiera proprio per questi animali perché la romagnola viene macellata troppo presto, non gli si danno i tempi giusti di maturazione. Quindi l'idea che esista un piccolo gruppo di produttori come quelli del Magnifico che è in grado di produrre delle carni eccezionali deve dall'altra parte avere un gruppo di ristoratori o di consumatori che è in grado di capire queste carni e di valorizzarle. Quindi la giornata di oggi è un progetto che mette in fila questi due elementi. Qui ci sono oggi i cuochi dell'Emilia Romagna, i cuochi importanti dell'Emilia Romagna, ci sono dei giornalisti da fuori, c'è una carne eccezionale di un animale che è stato levato apposta per questa giornata e attorno a questo progetto c'è un gruppo di cuochi con Giacinto Rossetti in testa che ha deciso di aderire a questa idea, all'idea di valorizzare un territorio attraverso un prodotto.